come spesso dico ai miei atleti o alle persone che condividono con me progetti e avventure la passione è tutto è davvero il motore di ogni azione e a volte non puoi aspettarti sempre il momento giusto rimanendo nella tua comfort zone a volte bisogna avere il coraggio di saltare il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info